Cibustec prima giornata, siamo allo stand di PacLab, PacLab fa parte del gruppo P.E. Labelers e alla mia sinistra c'è il responsabile commerciale, il signor Ivano Rubano. Signor Rubano, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa proponete, cosa presentate a Cibustec? Al Cibustec presentiamo una macchina chiamata Compact, appunto una macchina compatta per il settore alimentare, con barriere ottiche e sistema di centraggio per un'accurata applicazione delle etichette sul prodotto. Questo tipo di macchine in che ambiti può essere applicata? Alimentare, cosmetico e anche chimico. PacLab in quali settori è attiva? È attiva a 360 gradi, partendo dal alimentare, chimico, cosmetico, farmaceutico e andiamo anche nel settore beverage, comunque vino e alcolici. Quindi praticamente in tutti gli ambiti? A 360 gradi, sì. E per quanto riguarda i mercati, esportate? Esportiamo circa per il 70% e appunto in tutti i settori. I prossimi eventi in programma? Chicago, PacExpo e Emballage Parigi. Allora buon lavoro, ci rivediamo ad Emballage. Grazie anche a voi, salve. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.